soddisfatto della cavalla certo abbiamo scomodato anche fantini dalla sardegna fadda ciao fadda ciao a tutti allora ci vuole anche lei dove vai vedi sei il meglio pezzo ti vai a nascondere almeno tre cavalli di siena primi sì dunque cominciamo la valla di due perché unica al mondo la monta vedi ecco la monta anche in sardegna sì sì sempre montata io certo è sempre andata bene oggi è andata bene potevamo andare anche un filino meglio con un po di fortuna e quarta quarta un terzino era la portata nostra almeno ci purtroppo abbiamo avuto un fisico di sfortuna al momento cruciale scivolata al momento che dovevamo andare fare l'allungo decisivo e ci è costato il terzo posto sono contento aveva fatto una corsetta di rientro corsetta di rientro aveva di certo brillato però siamo rimessi sotto e la cavalla va bene contento anche mio ma quella piazza io la dobbiamo preparare noi siamo andati in sardegna a prendere un cavallo da corsa prima cosa prima cosa poi si vedrà insomma c'è un cavallo da corsa per tutte e due le cose si è con questa cavalla si è farà bene il podromo e provincia grazie complimenti dove vai vieni ma chiudiamo il meglio pezzo ciao